I Pride sono delle esplosioni di sentimenti e di identità positive e fanno bene in questo momento perché parlano di rispetto, di dialogo con gli altri, di identità e di amore. Sono valori dei quali non solo non bisogna avere paura, ma ripeto vanno interpretati come un segnale positivo e sul quale scommettere, quindi con questo spirito è giusto stare qua. Pride, cioè orgoglio. L'orgoglio è l'antidoto alla vergogna, ai sensi di colpa, al ghetto, al filo spinato, al pregiudizio. L'orgoglio è quello che chiede di rivendicare piena cittadinanza, diritti uguali e interi per tutti e per tutte e oggi la necessità è quella che il Parlamento vari il DDL ZAN, cioè dichiarare che il bullismo omofobico non è un fatto di folclore ma è un crimine di odio.